32 punti personali ed è forse record in questa categoria per te in questo girone 8 punti decisivi quando Rosarno aveva praticamente recuperato la partita inaspettatamente recuperando più di 20 punti di scarto cioè Matteo, meglio di così non poteva proprio andare personalmente? No vabbè, personalmente sono contento ma sono più contento per la vittoria fuori casa che era finalmente ora che vincevamo ci siamo allenati intensamente in questi due giorni e dopo la sconfitta di Messina ci volevano proprio questi due punti e sono contento sicuramente quel primo quarto a Messina ho fatto grandi cose ma i compagni mi danno sempre la possibilità di trovarmi un tiro o di farmi una penetrazione con un pick and roll quindi se io faccio punti è perché la squadra mi metto in condizione di farli 20 punti di vantaggio sprecati con un pressing del Rosarno praticamente avete regalato tantissimi palloni uno dopo l'altro avete mai pensato di perderla questa partita a un certo punto? sinceramente io l'ho pensato no perché loro non hanno malato mai comunque 20 punti di scarto in questa categoria non contano cioè se uno sballa rischi di perdere la partita